bonjour bonjour tout le monde tous les jours basta il mio francese finisce qua allora buongiorno buongiorno a tutto il mondo e a tutti i miei frati e sorelline ho finito ho finito l'enciclica fratelli tutti ce l'ho fatta cosa ne penso allora la situazione che stiamo attraversando il tempo che stiamo attraversando per certi versi è unico nella sua complessità credo che il passato non abbia mai visto una complessità tale forse ha visto momenti anche più pericolosi durante la guerra fredda soprattutto abbiamo rischiato qualche volta almeno una certa di un olocausto nucleare però un momento così complesso non è mai esistito dove tutte le culture si intersecano si incontrano si scontrano dove una persona con un minimo uno stipendio medio occidentale basso si può si poteva prima del covid permettere di andare dall'altra parte del mondo e conoscere direttamente una cultura adesso vediamo se non si tornerà mai più come prima ma comunque l'idea è quella ci sono degli strumenti potentissimi che offrono al 99 per cento delle persone tutto lo scibile umano la possibilità di conoscere quel che può conoscere anche il più esperto medico è tutto in rete praticamente il più il più competente fisico certo credo che ci sia una certa percentuale di conoscenza che rimane ovviamente segreta soprattutto sono conoscenze militari sono conoscenze che riguardano sviluppi energetici sviluppi bellici e poi sapete che hanno nel tempo poi quando vengono sdoganate vengono sempre più applicate iniziano anche ad avere per ricaduta utilizzi civili ma all'inizio tutte le grandi scoperte l'uomo le prime scoperte le fa per distruggere o difendersi ecco per amore fa ancora molta fatica a fare qualcosa per amore allora la complessità di oggi non è mai esistita l'enciclica nasce dentro questo contesto ed è la sintesi in un certo senso una buona sintesi del pensiero di bergoglio un pensiero espresso dal del pontefice della più alta carica della chiesa cattolica che è una religione religione da religere rilegare riunire assieme e quindi fratelli tutti siamo tutti fratelli siamo tutti accomunati da un medesimo destino abbiamo una terra comune abbiamo un'aria comune un destino comune e quindi bene giusto estremamente giusto ci possiamo possiamo concepire un'idea opposta nemici tutti che bello non abbiamo un destino comune questa terra non è la terra di tutti possiamo distruggere la natura l'ambiente l'aria l'acqua spariamoci tra fratelli no scusate tra nemici ovviamente no non è possibile pure quello che abbiamo sempre fatto e quindi questa enciclica più la leggevo e più dicevo giusto bella questa frase bellissimo questo concetto e quindi vi dico come mi scrisse un amico il primo che mi suggerire di leggere fratelli tutti leggetela tutti superate i vostri dissidi con jorge maria bergoglio berghi superateli ci sono degli aspetti molto interessanti e poi ci aiuta a capire ancora di più alcuni dettagli delle sfumature emotive che notiamo in sempre più persone perché il pontificato di bergoglio non so se questa enciclica rimarrà nella storia verrà ricordata ma il suo pontificato sì non solo perché è il suo pontificato un papa per quanto sia carismatico per quanto abbia fatto bene o male è comunque l'espressione di un'intera chiesa di un'intera cultura dell'intersezione delle diverse dei diversi vettori che costruiscono la cultura umana quindi rimarrà sicuramente nella storia bergoglio per anche il per il contesto per il momento storico che è un momento di svolta e quindi per comprendere meglio è bene leggere bene approfondire allora leggendo troviamo un invito ad aprirci ad ascoltare ad abbandonare gli egoismi e in un certo modo anche ad uscire da delle mura mentali soprattutto che ci chiudono in una sorta di fideismo non di fede del cuore ma di credo cieco e tutto ciò lo condivido al cento per cento guardate ci sono dei passaggi che dicevo adesso non che mi voglia paragonare ma veramente se andate a vedere degli scritti miei di 15 anni fa sono in perfetta armonia ecco possiamo dire che sono in perfetta armonia e quindi c'è qualche problema sì vi invito a leggerla vi dico che sottoscriverei il 90 per cento l'ottanta per cento di quel che c'è scritto si generano dei grossi problemi di confusione e caoticità quando bergoglio ecco che inizia a trabordare dallo spazio spirituale religioso del trascendente traborda e inizia ad entrare in una sorta di manifesto politico economico e lì si entra un po in confusione ci sono dei passaggi raffazzonati contraddittori è come se questa enciclica cercasse di abbracciare tutto in un buonismo che poi nell'atto pratico ecco l'atto pratico l'atto pratico cioè più leggevo le encicliche più gli dicevo sì ok ma praticamente però non avresti dovuto fare tutta una serie di azioni che hanno dato praticamente tornati nell'atto pratico più appoggio o in un certo modo hanno quasi spruzzato un po evidentemente in maniera molto superficiale hanno spruzzato un po di zuccherino bianco un po di di acqua santa su personaggi che lavorano in dimensioni non particolarmente connesse alla spiritualità non connesse al dialogo religioso quindi traborda in uno spazio economico politico e si sente sempre più la mancanza del radicamento al nucleo della spiritualità della religione cioè quel qualcosa che riesce a riunire gli uomini ed è lì che rimane come un piatto freddo un piatto incompiuto non riuscito quindi ci sono delle esortazioni c'è una sorta di un po di paternalismo a volte che ecco lì mi mette un po a disagio però ci sono anche dei passaggi molto interessanti il guaio è che non riesci a non associare ciò che c'è scritto alla figura e a ciò che ha fatto alle persone che ha incontrato a tutta una propaganda che attraverso più l'azione pratica che le parole ha esercitato in questi anni e allora fai fatica a non rievocare momenti in cui era veramente più vicino a tutta un'informazione atea che ha lavorato sul politicamente corretto che ha livellato le culture e non le ha portate amorevolmente a scoprirsi e a camminare assieme nelle loro differenze ma le ha soffocate le ha schiacciate e poi ti viene in mente magari qualche incontro con i Rothschild il responsabile di banks of america quel gruppetto the guardian e questo suo farsi garante etico di soggetti che rappresentano l'alta finanza i più grandi capitali del mondo che sino a ieri hanno generato iniquità hanno generato povertà e oggi forse ancora di più allora leggi questa enciclica e dici giusto ci sono delle cose giuste però non sento il radicamento al trascendente a dio e non c'è nemmeno una vera indicazione su come morire a noi stessi non è un testo teologico non è un testo filosofico nel senso della seconda navigazione socratica un testo che ti indica in un momento così così cupo così buio come essere luce you are the light of the world voi siete la luce del mondo no ha una dimensione molto pragmatica potremmo considerarlo una sorta di critica della ragione pratica senza la critica della ragione pura all'interno della filosofia kantiana non sta in piedi però cante non ha scritto anche la critica della ragione economica finanziaria lui si bergoglio si nelle azioni ha propagandisticamente passato un messaggio di vicinanza agli ultimi ai poveri ma praticamente si è sentita più una vicinanza ai potentati non voglio entrare in tutte le solite tematiche che sono oltretutto state approfondite egregiamente da tantissimi soggetti competenti tematiche che riguardano l'ordine dei gesuiti legami ipotetici con la massoneria ma non ci serve tutto ciò cioè lo lascio ovviamente fare a chi lo sa fare io sono ignorante su queste cose nella mia vita ho lavorato soprattutto per approfondire il messaggio ultimo di tutte le religioni della filosofia mistica e del pensiero mistico ecco bergoglio in un ecumenismo di superficie ha in realtà creato un grosso problema cioè si è fatto portavoce di una sorta di fratellanza delle religioni che però livella che è quasi più fratellanza delle istituzioni più potenti che del vissuto dei fedeli è più fratellanza dialettica è un'arsa oratoria che fratellanza generata attraverso l'azione dell'incontro e dell'amore ed ecco che così si è creata una spaccatura tremenda che mi sta facendo notare un riemergere degli integralismi del cattolicesimo del cristianesimo cioè in realtà questo tipo di livellamento e non di reale ecumenismo che io amo io ritengo che in ogni religione ci sia un contatto o almeno un rimando ad un risveglio della coscienza dell'individuo con la coscienza universale con dio ecco questo tipo di ecumenismo non è quello che passa alla fine con il messaggio il lavoro di bergoglio ed ecco che l'ecumenismo la visione dell'integrazione fra le religioni viene sempre più osteggiata e rifiutata da un enorme numero di persone che si chiudono sempre più nelle loro posizioni e vanno quasi indietro ed ecco che ho sentito riapparire frasi del tipo l'unica vera religione quella cristiana cattolica tutte le altre sono false ragazzi ma dire una cosa del genere vuol dire buttare le basi per la prossima guerra o per dare strumenti ulteriori a coloro che speculano sulle fratture ed è meraviglioso onestamente poi ho visto pochi giorni fa un video di un monaco buddista che si è esposto apertamente dicendo uniamoci le religioni devono rilegare religere uniamoci contro quel che sta accadendo perché stanno accadendo delle cose che vanno ad umiliare l'uomo che sono false ed ecco che c'è il messaggio di unità di amore fraterno legato al suo contatto con la spiritualità del trascendente ed è un monaco buddista l'ho sentito dire da musulmani da quelli che sono definiti gli integralisti ebrei gli ortodossi ebrei sì sicuramente ci sono delle frange integraliste però diciamo che di fronte al male abbiamo notato di fronte a qualcosa che non sta funzionando abbiamo notato alcune figure religiose esprimere davvero un contatto con un qualcosa che trascende l'interesse personale l'egoismo guardate quante persone oggi stanno zitte perché hanno paura di perdere le loro posizioni in una situazione geopolitica che sta imponendo delle cose che non possono essere contrastate se non perdendo vantaggi l'hanno fatto politici musicisti artisti attori parenti nostri medici scienziati e poi abbiamo visto alcune figure in maniera trasversale della spiritualità delle religioni essere pronte ad abbandonare tutto per dire c'è qualcosa che non funziona stiamo attenti perché stiamo seguendo una pericolosissima discesa e come lo stesso Bergoglio un giorno ha detto e non è una frase sua e comunque è una consapevolezza antica abbiamo notato un estrema profonda spiritualità e amore per l'uomo anche in persone che probabilmente si finirebbero totalmente non religiose cioè non hanno un background mentale una struttura uno sfondo mentale inserito nei dogmi nei riti nelle strutture della religione e sono medici che hanno rischiato tutto e stanno rischiando tutto sono liberi pensatori sono giornalisti allora Bergoglio ha detto si può trovare più dio in una persona che non crede in dio che in qualcuno che ripete dio dalla mattina alla sera questo che cosa significa ripeto è un rimando una consapevolezza antica quanto la nascita dell'essere umano dio non è la parola gesù non è la parola buddha non è la parola questi individui dal buddha gesù da krishna a maometto hanno indicato una strada dovete anche pensare non facciamo mai un discorso storico e di tempo e di modificazione delle culture delle società degli usi dei costumi e del linguaggio gesù parlava 2000 anni fa il buddha 2500 anni fa maometto circa 1500 1600 non ricordo esattamente cioè ragazzi il linguaggio i costumi cambiano noi non riusciamo a spiegare quattro cose semplici a coloro che vivono nel nostro stesso tempo questi uomini dovevano parlare di un qualcosa che non era capito nel loro contesto nella loro cultura perché trascendeva la loro cultura gesù porta un messaggio d'amore in una logica che è ancora di occhio per occhio dente per dente parla di un regno dei cieli quando questi stanno aspettando il loro regno il mio regno non è di questo mondo questi lo uccidono perché come non è di questo mondo date a cesare quel che di cesare a dio quel che di dio non quadrava niente e credo che sia stato moderato ha dovuto moderare i termini non ragioniamo mai così perché pensiamo che lui abbia detto tutta la verità perché in quel momento ci siamo come i bambini non riusciamo a vedere che dietro c'è una storia di realtà e non di fiabe quindi la persona che ripete gesù dalla mattina alla sera ma c'è scritto anche nei vangeli che dice io credo in gesù io amo ma non ama non c'entra nulla con quel che il percorso della vita di quell'uomo ha cercato di passare l'ho già fatto questo esempio un bambino nasce nella foresta amazzonica in una famiglia di persone meravigliose che non sono i rose violente nel silenzio della foresta in quegli spazi in quella natura entra in uno stato di contemplazione naturale e percepisce la sacralità della vita percepisce che in lui c'è una presenza che è la presenza che abita ogni spazio di questo universo dal filo d'erba sino all'angelo più splendente come ci avrebbe detto Eckhart Tolle maister Eckhart scusate Eckhart Tolle ce l'ho sempre in testa maister ed è un individuo meraviglioso è un individuo è un santo ma lui non lo sa non ha questa terminologia ecco questo è ecumenismo ma noi abbiamo visto una falsificazione del processo ecumenico perpetrata attraverso la forza dei capitali è quasi sinnesto un piccolo passaggio delicatino ma riusciamo a comprenderlo questa dialettica un po' bugiarda è divenuta praticamente la colorazione di una serie di strumenti in realtà non molto colorati violenti aggressivi che stanno livellando il mondo sono strumenti di controllo sono strumenti di soffocamento degli individui di blocco della parola del pensiero che sono strumenti politico pandemici di informazione di tecniche della comunicazione più che altro è una programmazione neuro linguistica ti programmano e poi ci sono delle azioni potenti economiche finanziarie dietro e anche politiche sostituzioni di politici eccetera sempre sempre meno manovre sempre meno partecipate con la popolazione sempre più verticistiche tutto ciò non poteva passare senza una colorazione appunto dobbiamo prendere un'arma un fucile e lo coloriamo arcobaleno lo facciamo arcobaleno sembra carino però spara quello lancia proiettili spara proiettili ecco l'ecumenismo falso sta a noi adesso riuscire in un livellamento che sta accadendo a mettere dentro il fuoco e la vita davvero perché comunque ci stanno mescolando come i bussotti dicono qua da me come dei bussolotti come i siamo sparsi in giro come foglie in autunno mosse dal vento sradicati ecco sta a noi tornare a scoprire la vera spiritualità la vera umanità qua stiamo parlando di transumanesimo di balzi di progresso ad esempio altri aspetti che questo ecumenismo queste chiese non 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 criticano ma se non siamo nemmeno divenuti umani cosa vuoi è trans umano al di là dell'umano cosa prima dovrai essere umano poi forse valuti se puoi far qualcosa qua non siamo ancora umani quindi sta a noi scoprire chi siamo realmente come esseri umani ed ecco che tutto il lavoro sulla natura della mente del condizionamento se scopriamo come la mente in realtà si spezza in mille frammenti l'induismo lo chiama maya l'illusione cosmica e la frammentazione della mente nel cristianesimo lo stesso termine riguarda il diavolo divide diavolo significa colui che divide o l'antagonista colui che oppone la mente se non viene accompagnata ad una corretta ad un corretto sviluppo lasciando sbocciare la coscienza profonda la coscienza originaria la chiamo io ecco la mente diviene un mostro non è più uno strumento nelle mani della nostra luce ma è la nostra luce che è imprigionata in un meccanismo quindi benvenga una lettura di questo testo però c'è un problema che riguarda un testo non puoi scollegarlo soprattutto un'enciclica di un pontefice non può essere sconnessa dalle azioni di quel pontificato e dalla figura dalle parole dalle azioni dagli incontri di quel pontificato ecco il problema è questo che poi alla fine nell'insieme ha generato una specie forse anche stato un tentativo molto politicheggiante di stare un po con i piedi su tutto non puoi stare in due staffe qua siamo in 30 staffe in cina con degli accordi come in biden con degli accordi adesso biden non mi pare tanto d'accordo con la cina in medio oriente con degli accordi ma sono politici ci sono accordi politici che partono più dalla testa delle elite dei vertici l'ecumenismo lo fai con l'amore dei singoli nella fatica quotidiana e parte più magari dal basso parte da un lavoro veramente quello che facevano una volta i veri uomini di chiesa quando partivano non per convertire ma per aiutare per costruire per risanare magari posti distrutti dalla guerra ecco bene io mi fermo qui questo è il mio pensiero ci sono dei passaggi belli ma altri quando vuoi tutto e non sai più chi sei quando vuoi cerchi di stare ovunque probabilmente cercando di navigare in questo mare in tempesta in questo mare così vasto cercando di prendere una posizione predominante anche come religione si sente sempre più dire la chiesa di bergoglio è la chiesa che sta creando un'unica religione sì in una forma verticistica però no c'è mi sembra comunque che non lo so io credo che l'ecumenismo reale faccia divenire tanti singoli individui sempre più luminosi è come se tanti individui divenissero sempre più dei figli di dio dei cristo dei buddha e la chiesa perderebbe struttura come potere ogni individuo sarebbe chiesa tempio di dio e qua stiamo invece ricreando di nuovo una struttura piramidale è una struttura piramidale del potere religioso impastato con quello economico finanziario politico dove qualcuno si sta facendo garante se qualcuno garante di un percorso e poi si farà vertice insieme a pochi altri bene io mi fermo qui vi mando un carissimo abbraccio lasciatemi qui sotto i vostri pensieri i vostri commenti e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti grazie